Convocato dal Presidente del Consiglio Comunale di Ispica, Lorenzo Ricca, nell'Aula Consigliare di Palazzo Bruno, il Consiglio Comunale per oggi alle ore 20. Sono 5 i punti che i consiglieri comunali devono discutere. Attuazione Legge Regionale 12 del 2001, di recepimento con modifiche del DPR 380 del 2001 e successive modifiche di integrazioni. Attuazione Articolo 5, Legge 12 luglio 2011, numero 106, articolo 1, commi 21 e seguenti, della legge 16-12-2004, numero 308, cessione, cubature e trasferimento di ditti edificatori. Regolamento esplicativo per l'applicazione delle NTA e del REC per il calcolo delle superfici, dei volumi e delle altezze. Variazioni al bilancio di previsione, esercizio 2019-2021, esercizio finale 2021. Adozione Schema Aggiornamento Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 dell'elenco annuale dei lavori. Approvazione ai progetti da presentare a valere sul PAPOC 2014-2020, azioni 1, asse 10, in conformità del combinato disposto del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale numero 3 del 2016 e del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale numero 8 del 2017. La seduta sarà trasmessa dalla nostra emittente. La seduta sarà trasmessa dalla nostra emittente. La seduta sarà trasmessa dalla nostra emittente. Grazie a tutti